Buonasera, bentornati a Elettroshock. Anche questo mercoledì parleremo di politica, di consiglio regionale in questi giorni, anzi ieri si è tenuta la capigruppo che ha programmato l'attività dell'aula per i prossimi mesi fino alla fine dell'anno. Lo faremo, parleremo appunto di quello che succederà in consiglio regionale con Serena Pellegrino, consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra. Buonasera. Buonasera a lei e ai suoi telespettatori. Maria Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle, buonasera, benvenuta. Buonasera e buonasera a tutti e a tutti i cittadini che ci seguono da casa. Mauro Di Bert, capogruppo della lista Fedriga, buonasera anche a lei. Buonasera a lei e a tutti coloro che ci ascoltano. E Alberto Budai, consigliere della Lega, ma soprattutto presidente della commissione dedicata anche all'elettricità, tema che affronteremo in questa puntata. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Partiremo però dal tema dell'estate, dal tema caldo, che non è ovviamente la storia del ministro San Giuliano con la signorina Boccia. Parleremo di cose un po' che riguardano meno il gossip e più la concretezza, perché insomma partiamo col tema che è un po' il referendum. Perché è stata un'estate, come aveva detto il consigliere Onsa, l'intrincea, a raccogliere firme, Serena Pellegrino, firme per dire no all'autonomia differenziata. Un'autonomia differenziata che non vi piace, non vi convince. No, per niente, per niente proprio. Sono anni che ci stanno provando, ce l'hanno messa tutta e adesso finalmente, una botta di maggioranza, hanno approvato la legge Calderoli. Alla solita maniera di Calderoli, ovviamente. Bruciando scatoloni, no. No, quello era precedente. No, no, no. Calderoli che fa ovviamente le sue leggi, ha detta anche sua, porcate e quindi anche questa si manifesterà esattamente nella stessa maniera. Noi stiamo dicendo no, l'abbiamo detto a gran voce anche in Parlamento, sia la Camera che al Senato e a quel punto va bene, sono andati avanti, come si suol dire, a botte di maggioranza e allora chiediamo attraverso lo strumento referendario anche la chiamata ai cittadini che incredibilmente hanno risposto nel giro di cinque giorni abbiamo raccolto subito le 500 mila firme online. Cinque regioni hanno già detto subito di no, volendo anche soltanto con questo noi potremmo dire chiudiamo i cassetti, mandiamo immediatamente la richiesta di referendum abrogativo e invece no. Invece abbiamo pensato che forse era, che fosse giusto andare in strada, andare a raccogliere le firme di persona per poter parlare anche con le persone perché dire autonomia differenziata. Sembra così una cosa, anzi che qualcuno dice, sì sì ma noi ce l'abbiamo già la raccolta differenziata, va molto bene, ci dicono alcuni cittadini per strada. Ecco la parola autonomia differenziata dobbiamo invece spiegarla, spiegarla bene alle persone e farli andare a votare e dimostrare che non è soltanto una riforma spacca Italia ma proprio spacca i cittadini perché non dà più quella forza di coesione dove l'Italia è una e indivisibile. Budai, visto che insomma è stata subito tirata in ballo Calderoli, esponente della Lega, è così, è una riforma che spacca e divide l'Italia? Non credo che spacca e divide l'Italia perché stiamo ragionando sui livelli minimi di prestazioni sulle regioni e quanti livelli le regioni possono avvocare a sé. Il Friuli Venezia Giulia è una regione che penso abbia fatto della sua autonomia un cavallo di battaglia e ci è consentito anche di essere una delle prime regioni per quel che riguarda ovviamente l'economia, l'istituzione e quant'altro. La raccolta firme, la raccolta firme chiaramente avendo la possibilità di andare con una raccolta firme online è evidente rispetto a tempi addetto dove anch'io partecipavo alla raccolta firme di vari referendum. La Lega ne ha fatti più di qualcuno. Ci doveva andare con il banchetto, la raccolta firme online ha consentito di avere centinaia di migliaia di firme, è molto più facile firmare ovviamente online che non al banchetto magari d'estate e andare a raccogliere una a una le firme. Non credo sia una legge assolutamente che spacca l'Italia, è una legge che ovviamente può dare le capacità alle regioni di investire sul proprio territorio, di dare finalmente un buon governo a ogni regione che riesce ad applicare questa autonomia differenziata. È una legge ordinaria ma soprattutto mette mano alla riforma costituzionale che mi sembra sia diverse decine di anni che attende la Costituzione, deve essere ancora completata. E quindi questa legge a nostro avviso è una buona base per completare quello che prevedeva la Costituzione sull'autonomia delle regioni. Capozzi, voi non siete d'accordo ovviamente? Noi non siamo d'accordo, abbiamo sostenuto convintamente la raccolta firme proprio perché crediamo in questo referendum abrogativo, riteniamo che l'autonomia differenziata fa venire meno il principio di solidarietà ma soprattutto non tiene conto della perequazione per i territori con differente capacità fiscale per abitanti. Darà vita ad una frammentazione e complicherà anche dal punto di vista amministrativo il tutto e questo non soltanto per cittadini ma anche per imprese, i quali si troveranno ad avere a che fare con 20 legislazioni differenti. Noi vediamo un sistema che si complica ma su aspetti fondamentali come ambiente, salute, energia, scuola, avremo la territorializzazione dei diritti e anche dal punto di vista del Friuli Venezia Giulia noi siamo seriamente preoccupati perché vediamo indebolita la nostra specialità riconoscendo la specialità a regioni ordinarie e quindi vediamo appunto questo in questo momento proprio un indebolimento della specialità della nostra regione che si fonda su ragioni storiche, sulle situazioni controverse che erano a Trieste con i rapporti con la Jugoslavia o ancora per tutela delle minoranze linguistiche, diciamo tutte queste ragioni portano, hanno portato al riconoscimento di questa autonomia, autonomia che oggi invece viene riconosciuta a regioni ordinarie che diventeranno di fatto speciali. Di Berti, perdiamo la nostra specialità, non saremo più speciali, saremo come gli altri? Ma io credo che noi non perderemo la nostra specialità, anzi la leggo come uno stimolo a esercitare a maggior ragione ancora di più la nostra specialità, non va trascurato un particolare che l'autonomia differenziata non prevede un obbligo ma prevede una facoltà di certe regioni di abbocare a sé la gestione di determinati settori e poi non riesco a capire, dietro al fronte mi passi questa espressione pur rispettando evidentemente la legittimità delle raccolte firme a tavolino, online o dei cinque consigli regionali, ma leggo un controsenso perché l'autonomia differenziata che va a completare la riforma del titolo quinto, firmata dal governo di allora Amato e D'Alema, non dimentichiamo chi erano, e poi lo stesso Occhetto, che da una certa età si ricordano chi fosse, o anche Cesare Salvi, noti esponenti alla sinistra, nei loro programmi avevano sempre messo l'autonomia differenziata. E quindi non comprendo, e non comprendo nemmeno l'Emilia Romagna, la Toscana, che come d'incanto prima erano favorevoli e adesso sono contrari. E poi mi devono spiegare, mi devono spiegare, la quinta regione, visto e considerato che la gente dei saperi devono essere almeno cinque regioni, la Sardegna, non so che calcoli abbia fatto, essendo una delle cinque regioni tutto speciale, come il Friuli-Vencia Giulia, il Trentino, la Sicilia e la Valle d'Aosta. Quindi io credo ci sia un pizzico, ma non voglio offendere nessuno di schizofrenia, forse anche di poca competenza tecnica in materia. Io invece leggo l'autonomia differenziata come un'assunzione di responsabilità. Non credo che si vada a danneggiare nessuno, perché la migrazione sanitaria dal sud al nord c'è già, l'immigrazione a studiare presso l'Università del Nord c'è già, quindi non riesco a capire quale danno si va a creare. Invece è una formula, a mio giudizio, con tutti i distinguo, una normativa che può essere messa a posto, si potrebbe andare in via sperimentale. Ma credo che veramente è giunto il momento di responsabilizzare qualcuno che per troppi anni ha avuto i soldi e non è saputo far fruttare al peruticio della nostra collettività. Non ci vedo assolutamente niente di male e non è possibile che certi soggetti che prima erano favorevoli, da un momento all'altro siano contrari, perché? Per ragioni che sono esclusivamente politiche. La gente è normale, questo lo capisce e lo comprende. Abbiamo due minuti, quindi vi chiedo, prima della pubblicità ovviamente, non prima della fine della trasmissione, abbiamo domanda flash, parto di nuovo dal capogruppo di BERT, autonomia regionale potrebbe essere implementata ad esempio con la scuola che è uno dei temi caldi anche in questo periodo? Ma certo, nella scuola, nella sovrintendenza, noi in sede di, in consiglio regionale abbiamo fatto un elenco di competenze che teniamo, vorremmo che ci venissero attribuite con grande senso di responsabilità e stiamo percorrendo questa strada, appunto convinti che vogliamo esercitare al massimo la nostra specialità e sarebbe bello che lo facessero anche le altre regioni. Capozzi, scuola sì? La scuola è un diritto universale e per noi è inconcepibile che anche da questo punto di vista ci sia la territorializzazione dei diritti, perché poi avremo anche insegnanti che verranno pagati in maniera differente da territorio a territorio e quindi ci immaginiamo anche da questo punto di vista una migrazione a scapito e a danno di altre regioni in un paese dove sono costituzionalmente garantiti due principi fondamentali, il primo che all'articolo 5 ovvero la Repubblica è un indivisibile e l'altro all'articolo 3 che la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale proprio ai fini di garantire l'uguaglianza tra i cittadini che in questo momento viene compromessa. Di bello non è d'accordo? Ma non sono d'accordo, no, perché il 116 della Costituzione parla di autonomia differenziata, il 117, l'E3M, se non ricordo male, nell'ultimo periodo parla chiaramente di livelli essenziali, quindi questi non vanno toccati, i concorsi sono pubblici. Ma di fatto però si creerà quello, perché, perdonami, con tutto il rispetto non è così, secondo me c'è una paura forse ingiustificata, ma non è così, non è così. Valetta finalmente in una assunzione di responsabilità, poi non so come andrà a finire il referendum, ma attenzione, il popolo è sovrano, però ti devo dire, se mi permettete un'ultima cosa, non vorrei prendere la scena, bisogna vedere se sarà ricevibile anche questo referendum, perché attenzione, che questa è una legge quadro, voluta in termini di legge quadro da un noto esponente boccia del Partito Democratico, e questa legge quadro poi deve essere declinata, e essendo una legge che va a toccare bilancio e tributi, c'è il rischio che la Corte Costituzionale non faccia passare il referendum. C'era anche un problema sul tipo di quesito, come era stato posto. Devo fermarmi per la pubblicità, sono in debito con la risposta. Piccolo break e torniamo subito. Grazie, ringrazio subito chi ci supporta e regia, perché insomma la TV non è solo chi sta al di qua delle telecamere, ma anche sicuramente i tecnici, oggi regia Chiara Miscoria e Martina Beraldo, ma noi parlavamo, te ringrazio ovviamente, noi parlavamo di referendum, Pellegrino, si arriverà al referendum o no? Prima domanda. È chiaro che siamo stati tante volte scottati dal fatto che alcuni quesiti non siano stati accolti, uno per tutte è quello sull'eutanasia, se non ricordo male. Bene, abbiamo raccolto un milione di firme per strada e poi è stato respinto. Insomma, questo lo vedremo soltanto vivendo, ovviamente. Sul fatto che ci sia all'interno della riforma la questione fiscale, è chiaro che potrebbe essere uno dei nodi, perché sappiamo tutti, e forse i cittadini e chi ci ascolta bisogna ricordarlo, che i referendum sul fisco non si possono fare, ovviamente. Non è che Calderoli furbo la nostra cosa? Ecco, io infatti ho anche pensato che sia questa cosa, perché Calderoli ovviamente... È una vecchia volpe, si può dire. Non è uno sciocco, la materia la conosce, sa bene come ci si muove anche all'interno delle istituzioni e ovviamente ha fatto una legge ordinaria, non è affatto una legge costituzionale, per cui insomma ci sono state una serie di passaggi, possiamo anche dire furbi, ecco. Noi ci auguriamo veramente che non ci sia il rigetto da parte della Corte, ovviamente. Lo stupore da parte del Consigliere Dibert che la Regione Sardegna ha impugnato, ha detto io voglio respingere, anzi chiedo il referendum, e dovrebbe farci invece pensare più volte, perché probabilmente anche la Regione nostra ha statuto speciale, che ha un'autonomia molto particolare, ovviamente dettata appunto, come si diceva anche sulla questione che abbiamo una minoranza slovena, prevalentemente è il motivo per cui noi abbiamo questa autonomia, abbiamo anche una serie di materie che noi sono materie concorrenti con quelle dello Stato e che oggi come oggi, anzi, gli autonomisti friulani rivendicano il fatto che noi non abbiamo avvocato e utilizzato più che altro tutte le nostre potenzialità di autonomia, ma forse probabilmente è proprio questo. La Regione Sardegna si rende conto che probabilmente una riforma di questo tipo non solo si depotenzia perché agli altri viene data una specialità, ma perché gli viene tolto proprio la sua specialità, perché che venga data autonomia anche ad altri, anche una serie di potenzialità anche ad altre regioni, questo non è un problema. Ma il punto è che proprio ci sarà un problema di specialità e noi vogliamo proprio sapere come chi rivendica e chi dice che la nostra Regione ha statuto speciale non verrà minimamente toccata dalla legge Calderori, dalla riforma Calderori. Io voglio sapere in quali punti, secondo loro, questa cosa non verrà toccata. Quindi noi rimarremo esattamente come siamo e il resto del mondo si modificherà. Questo io credo che non sia così. Per cui lo rimando al mittente questa cosa. Inoltre c'è la questione sanitaria. Non avremo il capitolo sanitario, lo apriamo fra pochissimo. No, 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 la questione sanitaria perché è stato detto c'è la migrazione sanitaria. Perché c'è la migrazione sanitaria? Ma lo facciamo anche noi del Friuli che andiamo in Veneto. Faccio l'esempio. Ecco, la riforma Calderoli è già stata scritta e applicata proprio per quello che riguarda la regionalizzazione sanitaria. È sotto gli occhi di tutti, tutti i cittadini e cittadine che cosa ha portato la riforma della regionalizzazione sanitaria. Se questo stesso modello si applica anche per tutte le altre 23 materie, apriti cielo. Ecco, io dico intanto se questo è il demo e mi pare che il Consigliere Dibert in un comunicato stampi abbia proprio rivendicato il fatto che quello è la buona norma e che è il demo dove noi andremo incontro, beh allora veramente si salvi chi può. E Budai, non so se Dibert vuole rispondere, però... Indifferente, comunque... Sicuramente i livelli minimi di prestazioni, quelli verranno garantiti e questo è fuori discorso. C'è da dire comunque anche sulla regionalizzazione, ma più che altro io andrei a spostare anche sui livelli minimi di costi, perché spesso e volentieri ci dimentichiamo proprio questo. La battaglia della Lega era tantissimi anni. Quanti sono i livelli minimi di costi in Friù di Venezia e Giulia e quali sono i costi che determinate regioni hanno per i livelli minimi di assistenza o distruzione e quant'altro? Il principio di solidarietà. Forse è chiaramente un'assunzione di responsabilità, perché da sempre dobbiamo arrivare a un'assunzione di responsabilità. Tu voti una determinata giunta, un determinato presidente per quei livelli minimi di assistenza con determinate capacità e risorse, perché non puoi confrontare i livelli minimi che ha il Veneto, il Friuli con altre regioni che magari hanno la stessa quantità di risorse? Probabilmente si deve arrivare a un'assunzione di responsabilità. su quei 23 capitoli che verranno dati alla regione ci sarà motivo, la motivazione di arrivare a un livello di confronto che faccia capire chi governa e come governa in maniera migliore e con più responsabilità nelle regioni. Chiudiamo il capitolo referendum, entriamo un po' sui temi più regionali, perché è stato fatto il calendario dei lavori dell'Aula del Consiglio regionale. Mi sembra di capire, ma chiedo ai rappresentanti della maggioranza di correggermi se sbaglio, il focus principale sarà sull'assestamento Tris, l'assestamento autunnale, dopo l'assestamento estivo che è stato il più ricco nella storia della regione con oltre un miliardo. Riparto proprio da Budai. Cosa ci dobbiamo aspettare da questo assestamento? Sappiamo che sono state accantonate risorse perché a livello nazionale si parla di una manovra lacrime e sangue. Chiaramente speriamo non sia così da cittadini. Come interverrà la regione in questo senso in autunno? Innanzitutto arriveremo dopo la metà di ottobre a questa seconda manovra di assestamento che comunque già il fatto che ci arriviamo alla manovra di assestamento, sono stati anni in cui questa regione non ha avuto manovra di assestamento. Il primo anno della passata legislatura a Fedriga siamo arrivati al mese di luglio con 80 milioni, non con un miliardo, 300 e... Quattrocento. Ecco, non c'erano nemmeno le manovra di assestamento per quel che riguarda il mese di ottobre. Sicuramente non abbiamo chiaramente i dati perché ogni direzione dovrà dire quali sono i propri bisogni per riuscire a arrivare in fondo alla programmazione annuale, ma comunque sono stati accantonati diverse centinaia di milioni per far fronte. Questa manovra chiaramente dovrà passare per le commissioni competenti e le varie direzioni dovranno dire i fabbisogni. È chiaro che per fortuna questa regione ha una grande disponibilità economica, veniamo per fortuna da una grande disponibilità di bilancio che ci consente di ovviare a eventuali criticità che possano derivare da fondi nazionali. Budai, solo giusto pervi, vi aspettate una manovra simbolo della giunta regionale o sarà rimandata comunque alla legge di bilancio che arriverà a dicembre? Quindi insomma questione di un paio di mesi. C'è sempre un confronto fra ovviamente all'interno della maggioranza e quindi si è sempre riusciti a trovare un sistema di confronto con la giunta regionale e i consiglieri, i capigruppo dei vari partiti. Il confronto c'è ed è costante, non arriva direttamente come spesso viene detto e annunciato direttamente dalla giunta regionale preconfessionata. Speravo di estirparle qualcosa ma non ci sono riuscito. Capozzi, voi cosa vi aspettate da questo assestamento? C'è ordinaria routine quindi con i soldi per chiudere i bilanci alle varie direzioni o qualcosa in più? Beh, non ci aspettiamo sicuramente qualcosa in più su alcuni temi che riteniamo non siano stati affrontati in maniera esaustiva nell'assestamento di luglio. Primo fra tutti quello della sanità dove le difficoltà dei cittadini sono ancora tante, le liste d'attesa continuano a essere lunghissime e le risposte appunto non arrivano nonostante gli innesti continui. E anche il tema della povertà ci ha lasciati abbastanza perplessi durante l'assestamento scorso dove non si è data attenzione alle famiglie in difficoltà, tant'è che noi del Movimento 5 Stelle avevamo proposto un emendamento proprio per ripristinare la misura inclusiva del reddito, proprio per far sì che le famiglie in difficoltà possano fronteggiare a questi momenti di difficoltà dati dal rincaro dei prezzi dell'energia, dei prezzi dei beni di prima necessità. E quindi questa è la risposta che ci aspettiamo, maggiore attenzione alla sanità, maggiore attenzione alle famiglie in difficoltà. Di Bert. Siamo a ridosso della fine dell'esercizio finanziario. Ovviamente si va a fare, come posso dire, delle rifiniture. Attendiamo le comunicazioni delle direzioni che hanno il posto della situazione. Puoi vedere di chiudere certi canali già avviati, ne so, anche qualche graduatoria. Poi vediamo se può essere anche qualche aggiustamento normativo, ma in questo momento è solitamente prematuro dire su che cosa andremo. Evidentemente ci sarà un confronto tra di noi. Tutti daremo un contributo sulla base di quali saranno anche le disponibilità, evidentemente. C'è il timore che appunto la manovra nazionale sia effettivamente lacrime, sangue? Io evidentemente spero di no. Certo è che come ogni esercizio finanziario, ogni manovra finanziaria, ha sempre avuto le sue impatti più o meno forti sul territorio. Non è una novità. La situazione è difficile. Io sono molto preoccupato del patto di stabilità, perché l'ho gestito del patto di stabilità anni fa e tu ti trovi non solo ingessato, ma crea un'ingessatura a tutto il mondo imprenditoriale in termini di pagamenti. Quindi è un effetto a catena veramente preoccupante. Spero, spero che ciò non accada e se accade si faccia tesoro delle esperienze negative e si cerchi di limare alcuni aspetti, perché bisogna investire, bisogna creare occupazione, attività produttive, perché senza attività produttive non c'è ricchezza, non c'è benessere e non c'è neanche welfare. Quindi è quello che auspico. Non essendo lì, seguo con grande attenzione e ho motivo di ritenere, perlomeno un auspicio che fa sull'augurio, che si riesca a fare una quadra definitiva. Devo andare in pubblicità, Fellegrino. Mi consente. Diamo un attimo in pubblicità, torniamo subitissimo. Pellegrino, ero in debito con una risposta. Cosa si aspetta da questo assestamento di bilancio? Allora, lo scorso assestamento di bilancio è stato di 1348 milioni. Un miliardo e quattro, dai. Ma è bello dire 1348 milioni di euro, perché si sente proprio il peso di questi milioni. Adesso non so a quanto ammonterà questo mini, si fa per dire, assestamento di bilancio. Ma quello delle 1348 milioni ce ne sono 650 di riporto dell'anno precedente, che vuol dire che non sono stati spesi nell'anno precedente. Allora, siccome si sa, tutti lo sanno, anche i ragazzini delle elementari lo sanno, dal punto di vista istituzionale intendo, che un'amministrazione dovrebbe andare a bilancio zero e non avere 650 milioni di riporto dall'anno precedente. Però se avanzano è sempre meglio che se mancano, no? No, in realtà non è così, perché gli avanzi di bilancio possono andare bene in maniera marginale, ma dal punto di vista politico si dimostra che i cittadini gli è stato prelevato del denaro e non gli è stato restituito in termini di servizi. Questo vuol dire... Perché io ragiono come la casalinga di Poghella, per avere pazienza. Eh no, invece l'amministrazione pubblica non deve ragionare in questo modo, come forse un buon padre di famiglia, va bene, ma non deve fare la cresta sulla spesa. Invece in questo caso noi stiamo proprio vedendo questo, perché c'è un grosso accantonamento di denaro e le tasche dei cittadini sono sempre più povere, perché questo è sotto gli occhi di tutti. Non è che ce lo stiamo inventando noi, non è che la regione Friuli-Mezia Giulia è molto ricca, perché a quello che emerge con queste grandi paginate sui giornali e anche sulle emittenti televisive, in cui ci si vanta di avere un risparmio di 1300 milioni di euro, non è un risparmio, sono semplicemente dei soldi che non sono stati giustamente spesi. Su questo noi lo dobbiamo dire a chiare lettere, a chiare lettere. E il piccolo accantonamento per l'emergenza, è certo, ci sta più che bene, ma quando mi si viene a dire che la sanità pubblica non può andare avanti così perché non c'è denaro, è una grande bugia. Quando faccio gli esempi banali, per esempio Eka Micalo, da vicepresidente della Commissione, visto che qua ho il mio presidente della quarta Commissione, quando si dice che non si vuole fare il bypass di Cavazzo, del lago di Cavazzo sulla centrale A2A, perché costa troppo, ma la parola costa troppo, con cifre di questo tipo, è da caponare la pelle, ma posso farne centinaia di esempi di questo tipo. Quando si dice che c'è un problema dei costi del lavoro, non centinaia, ne faccio pure, ma non centinaia. Sì, va bene, non le facciamo così tante. Il problema dei costi del lavoro, per esempio, sulle professioni sanitarie, che non si può ipotizzare un aumento di stipendi su questi. E poi dopo si chiamano i gettonisti che costano quattro volte di più di un professionista che lavora a stipendio nelle corsie degli ospedali e lavora un quarto. Allora c'è qualcosa che non quadra. E poi, altro, nell'assestamento e bilancio dell'anno scorso, si fa la deroga al contratto collettivo nazionale del lavoro sulle professioni sanitarie, semplicemente per poter dare un po' più di soldi, ma quattro soldi in più, 50-80 euro, ai medici, perché si vuole far entrare il gettonista. E quindi la concorrenza di quello che è stipendiato dal gettonista non può essere così grande. Ecco, allora capiamoci, qua c'è un grande blef. Allora, o noi lo vogliamo dire ai cittadini che quel miliardo e 300 milioni e più sono soldi che sono stati sottratti alla cittadinanza e che queste paginate che vengono fatte, pagate peraltro con il denaro pubblico, perché sono state pagate con il denaro dei cittadini, su cui ho fatto anche un'interrogazione su questo, oppure, diciamo, guardate, noi stiamo agendo in questa maniera perché stiamo accantonando vicino vicino per approssimarci poi alle prossime elezioni e erogare il milione del signor Buonaventura esattamente come abbiamo visto nell'ultima legge di assestamento di bilancio, che è stato imbarazzante vedere questi emendamenti che arrivavano, un milione, due milioni, un milione, mezzo milione. Imbarazzante. Iberto, vuole replicare? Intanto vorrei invitare consigliere a Pellegrino a termini più precisi. Nessuno ha mai parlato di risparmi, mai, mai nessuno, perché visto che l'ABC lo abbiamo in tasca, avanzi l'amministrazione. Poi si può discutere quanto... Tutto ci sta, ma la terminologia, visto che in vita, rispetto, insomma, della terza terminologia, l'ABC, nessuno ha mai parlato di risparmi, perché non è corretto farlo. Quanto a parlare di sottrarre soldi alla gente, ma io credo che c'è sotto gli occhi di tutti come abbiamo speso i soldi. Siamo intervenuti nel periodo di Covid cercando di alleviare le sofferenze di attività imperditoriali. Abbiamo cercato di fare il possibile, abbiamo cercato di fare il possibile. Poi questo suo presunto, anzi, tale imbarazzo in vista delle elezioni, questi sperperi, ma di cosa stiamo parlando? Abbiamo erogato fondi per fare interventi pubblici. Io ho vissuto queste cose anche nel 2013, quando c'era qualcun altro al governo, e ho visto arrivare soldi nei comuni, neanche richiesti dai comuni, cifre da 800 mila euro. Esattamente come Trieste, chi chiede 100, gli viene dato 118. Non si può criticare così a senso unico la gente. Io credo che ci sia stata una gestione... O al palazzolo dello Stella, per esempio, o Fogliano, o Udina, qui non è arrivato niente, o Udina, qui non è arrivato niente. Io non faccio nomi, io attendo i 100 esempi invece, me li faccia. No, non tutti. Questi qua. Infatti lei, insomma, ci fermeremo e li sentiamo. Io credo che un'amministrazione regionale abbia questa operato con parsimonia, con culatezza, con gli uffici che hanno centilinato i fondi, e hanno cercato di valutare se gli interventi da fare hanno una valenza, è una ricaduta sul sociale, sul mondo petroreale, e abbiamo erogato questi fondi. Ma non vedo questo male assoluto, questo no a prescindere. Su ogni cosa, io non ho mai sentito una volta se avete fatto bene, ma qualcosa, per sbaglio, saremo riusciti a fare bene? Raccontano. E allora, buttare sta croce sulla sanità è un momento difficile, ma perché non siamo insieme e diciamo, sì, c'è una mancata programmazione che risale ad almeno 20 anni. Per formare un medico ci vanno 11 anni, evidentemente siamo in ritardo perché c'è una politica di austerity che non ha permesso di fare un tanto. Quanto ai contratti? Ma si è cercato di dare le formule per dare le risposte immediate a certe situazioni contingenti. Ma si sta lavorando, abbiamo sentito l'assessore che sta parlando di una riforma adesso che non sarà indolore, ma sarà doverosa. Perché invece non facciamo e diamo il buon esempio insieme, ci troviamo, noi discutiamo e cercare di osservare uniti non per il consenso spiccio immediato, ma per dare una prospettiva al nostro territorio. Questi sono raggiamenti da fare. E io ormai, guarda, mi rifiuto anche di controbattere perché il no a prescindere, come ho detto, no a prescindere. Ma non c'è per niente no a prescindere, chiedo scusa. Quindi io lascio, anche prima, volevo rispondere sull'autonomia differenziata e non l'ho fatto perché è tempo perso. Però io non riesco a capire queste posizioni preconcette, io non riesco a capire. Allora uno faccia delle proposte. Allora, le proposte che sono state fatte? In aula consigliare, si fanno le proposte. Consigliere di Berta. Troppo facile fare interrogazioni, perché se le interrogazioni non ci sono problemi e poi un giorno non ci nega nessuno, qualcuno dice. Quindi io veramente non riesco a capire questo male assoluto. Scusatemi, sarà un mio limite e non credo proprio di essere un incompetente su queste cose. Abbiamo cercato di fare il meglio che potevamo con l'avanzo, non con il risparmio e gli avanzi e anche una gestione oculata, anche grazie agli uffici e stiamo dando le risposte. Punto. Poi andiamo sull'energia che sono in debito. È divertente sentire che noi facciamo soltanto no. Allora, io ho presentato 23 emendamenti propositivi. Io 40. 40. Credo il Partito Democratico 200. E forse in tutta la legislatura da quando è iniziata saremo forse sull'ordine di 200. Ma non li contiamo. Abbiamo fatto una quantità di emendamenti propositivi alle varie leggi di bilancio che veramente numeri considerevoli. Brava. Di numeri considerevoli. 100 milioni per la fama del mondo. Numeri considerevoli. No, non è per la fama del mondo. È incredibile come di questi emendamenti forse ne sono stati approvati 3 barra 4 di tutti questi emendamenti. Poi nell'ultima legge di assestamento di bilancio invece sono arrivati un numero innumerevole ecco di emendamenti da parte della maggioranza perché non sapevano come distribuirseli questo denaro tant'è che io nel mio intervento finale gli alpini hanno applaudito tantissimo io lo dico e tutti lo sanno che io sono figlia di un signore che ha fatto il militare qua in Friuli in Nazia Giulia per cui non ho problema di conflitto di interessi bene allora cosa è successo? che sono arrivati una quantità enorme di emendamenti da parte dei consiglieri di maggioranza e nessuno si è sognato di dire ma guarda aspetta che prendo questo emendamento della consigliera Capozzi del consigliere non dico i miei non dico i miei perché sono brutta e cattiva ma degli emendamenti da parte dei consiglieri quelli che sono molto più bravi e molto meno oppositori di me nessuno neanche un cosolini no me niente cosolini ma io posso dire che uno è passato uno l'ha fatto è passato un emendamento insomma è di buon senso ma lo erano tutti e quello che dispiace è proprio che viene vanificato il lavoro a favore dei cittadini Udai sarete un po' più ricettivi come? sarete un po' più ricettivi sicuramente vedremo di guardare con maggior ocultato magari possono rinunciare a qualcosa di loro nella ripartizione della loro torta ci possono lasciare qualche effetto in più diciamo pure che io come provocazione nel mio intervento finale alla legge di assestamento e bilancio ho detto che è stato elargito a destra e a destra non c'è stato il male neanche centro-destra proprio tutto a destra ultimo break pubblicitario poi torniamo vediamo se riesco un po' a farvi fare pace sull'energia non siamo mica arrabbiati no a fare pace in metafora no in questo periodo effettivamente la parola pace forse è un po' il rispetto viene prima di tutto mi sembra che sia un consiglio dove comunque c'è molto rispetto questo ha detto insomma ci sono stati consigli più caldi più focosi pubblicità torniamo subito restate con noi bu dai ce l'abbiamo fatta energia è stato un anno importante per il Friuli Venezia e Giulia sono stati messi dai paletti per quanto riguarda il fotovoltaico ma è stata insomma fatta anche una norma importante sotto il profilo energetico le chiedo di riassumerla insomma perché se ne è parlato poco come ha giustamente detto allora per quel che riguarda l'energia ovviamente dobbiamo capire che stiamo andando in una direzione posta ovviamente dall'Unione Europea sulla decarbonizzazione allora noi dovremmo arrivare da qui a pochi anni e comincio un po' a guardare con interesse un po' anche con divertimento a volte dovremmo eliminare tutte le fonti fossili quindi carbone petrolio gas naturale e dovremmo arrivare ovviamente ad avere totalmente energie rinnovabili stiamo parlando di qui a pochi anni ci stiamo rendendo conto per quel che riguarda l'Europa cosa sta portando questo sta portando una crisi non di poco conto basta vedere la Germania basta vedere la Volkswagen sotto gli occhi di tutti questa no rivoluzione verde non è che contesto però ci sono dei tempi e sono necessari dei tempi perché da qui a pochi anni arrivare a questa rivoluzione può provocare veramente delle gravi crisi occupazionali e soprattutto economiche è evidente che andando a eliminare tutte le fonti fossili andare su fonti rinnovabili ed escludendo a priori come si fa il nucleare come spesso avviene non si può neanche parlare di nucleare le forme di energia rinnovabile sono il fotovoltaico l'eolico ovviamente l'idroelettrico l'idroelettrico ormai sono anni che non si accede a nuove fonti o comunque non si va in quella direzione ed è evidente che lo sviluppo in questo caso del fotovoltaico nella nostra regione ha avuto un impulso incredibile e ha avuto autorizzazioni per centinaia centinaia di ettari parliamo dell'agri fotovoltaico giusto per fotovoltaico fotovoltaico migliaia di ettari nuova norma del governo voluta dal ministro L'obrigita che va a colmare diverse richieste dovrebbe andare a bloccare per quel che riguarda l'installazione del fotovoltaico a terra sui terreni agricoli perché la grossa problematica che nasceva è il terreno lo utilizziamo per coltivare oppure lo utilizziamo per produrre energia fotovoltaica dovrebbe andare a colmare ripeto anche perché questa norma è sotto giudizio come tante altre norme italiane perché l'Unione Europea che considera l'energia rinnovabile ovviamente prioritaria quindi questa legge potrebbe andare a cozzare con le norme europee e quindi venire bloccata è evidente che molti dicono bisogna utilizzare i tetti bisogna utilizzare diverse aree bisogna utilizzare le zone industriali capannone industriali e quant'altro è evidente che se abbiamo bisogno di mille duemila gigawatt di potenza per sostituire tutte le fonti fossili stiamo parlando di diverse migliaia e migliaia di ettari di territorio che dovranno essere assoggettati a fotovoltaico personalmente ritengo che sia una follia trasformare i terreni agricoli in fotovoltaico però è evidente che se da altra parte andiamo ad abolire tutto quello che è il fossile da qualche parte l'energia dovremo continuare a produrla per mantenere la nostra tra virgolette civiltà che dipende gran parte dall'energia i nostri servizi essenziali di cui prima parlavamo autonomia differenziata ricordiamolo dipendono dall'energia senza energia non avremo lo sviluppo l'economia che abbiamo in questo momento quindi per quel che riguarda la nostra amministrazione chiaramente siamo andati a cercare di limitare eravamo già andati a limitare precedentemente con una norma che c'era stata impugnata e quindi l'installazione di fotovoltaico su terreni agricoli in questo momento chiaramente si approfitta della normativa l'olobrigita o comunque del governo per riuscire a contenere questa espansione disastrosa sul territorio del fotovoltaico è chiaro che si dovrà fare un ragionamento è chiaro che si dovrà fare un'integrazione che è necessaria per riuscire a mantenere le produzioni energetiche che si hanno in questo momento non è solo una produzione energetica il problema essenziale è ok abbiamo l'energia rinnovabile ma come la conserviamo il grosso problema è in questo momento come conservare l'energia che viene prodotta in surplus con le fonti rinnovabili e questo è il grande dilemma e in questa direzione dobbiamo approcciarci ragionare pellegrino come facciamo nucleare no ma il piano energetico regionale che noi ci siamo letti con grandissima velocità perché ci è stato fornito in tempi strettissimi perché doveva essere approvato alla velocità della luce 400 pagine quasi e non parla di nucleare no vabbè anche perché non può cioè banalmente è una tematica nazionale ecco non volevo entrare proprio nello specifico del nucleare fotovoltaico insomma non parlo di nucleare in realtà invece del nucleare si sta parlando si sta parlando abbondantemente anche il loro ministro ne sta parlando ha appena detto che entro la fine del 2024 uscirà immediatamente una legge sul nucleare e ci sarà il piano delle aree per quello che riguarda il fotovoltaico e questa è cosa giusta però sul fatto del nucleare il nostro il nostro assessore ha sempre dichiarato che lui è contro il nucleare peccato però che noi continuiamo a prelevare energia elettrica fornita dalla centrale di Kershko e che peraltro insomma si sa benissimo essere una centrale obsoleta e che si vuole fare il raddoppio peraltro in una zona altamente sismica e noi siamo a 200 km non so più o meno quanti se scoppia diciamo siamo proprio fritti esatto siamo fritti completamente usare un altro termine ma non si può la parola fritti secondo me funziona si rende bene e quindi sul nucleare non solo c'è il dibattito a livello nazionale e però ovviamente a livello normativo loro stanno andando avanti con il TGB senza andare a interloquire con con chi invece sul nucleare ci ha parlato da tanti anni e per l'amore di Dio io non sono una che dice no in maniera tassativa non sono come accusa di Bert se uno ha detto no a questa cosa allora deve dire di no per sempre o si allora deve dire di si per sempre come la questione dell'Emilia Romagna sulla autonomia differenziata no ma giusto è Toscana è anche Toscana ma io credo che solo i pazzi non cambino idea comunque comunque sulla questione sulla questione va bene allora i paracarmi mi sembra peggio allora direi fotovoltaico si o no giusto limitare di più sui tetti delle case sui capannoni andiamo a saturare tutti tutte quelle aree che sono già compromesse come per esempio i capannoni gli edifici le residenze tutto questo fotovoltaico mi troverete pienamente d'accordo sui campi sui campi fotovoltaici assolutamente non concordo anzi sono d'accordo con il con il presidente Budai che non è ma su questo l'abbiamo detto più volte non bisogna andare a intaccare terreno agricolo ma con niente bisogna intaccare il terreno agricolo e soprattutto però poi anche la stessa agricoltura e ci ritorno come ho detto prima da aiutata finanziata ma non a scapito dell'ambiente come invece in questo momento sta succedendo sul lago di Cavazzo energia ambiente agricoltura e il lago di Cavazzo in questo momento una due e tre voci le sta subendo tutte e tre contemporaneamente non possiamo pensare la coperta è corta non si può pensare che una debba prevalere sull'altra chi deve così dare la linea su tutto il resto sono le leggi ecosistemiche ci dimentichiamo che loro comunque ci governano non siamo noi a governare loro Capozzi allora io sul fotovoltaico sono piuttosto critica perché in questi anni ci ritroviamo una situazione che è data proprio dall'inerzia della regione e dico questo perché voglio fare una digressione storica e ripercorrere le chiedo abbiamo due minuti deve parlare anche di Bert sarò proprio velocissima voglio sentire quel che dice siamo piuttosto veloce nel 2010 è stato adottato un decreto ministeriale che diceva alle regioni di individuare le aree inidonee nel 2021 e quindi dopo più di dieci anni interviene un ordine del giorno dei consiglieri della Lega Nord dove era prima firmatario il presidente Bordin il quale dice di individuare le regioni le aree inidonee però di farlo attraverso lo strumento amministrativo e non quello legislativo dopo qualche mese la giunta regionale adotta la legge per l'individuazione delle aree idonee che viene giustamente impugnata dal governo e non viene contestata dalla corte costituzionale perché si era scelto lo strumento sbagliato ovvero quello legislativo e non l'atto amministrativo così come avevano consigliato gli stessi consiglieri regionali ora io ho voluto ripercorrere questo dato per poi arrivare al 2021 e ad oggi quando interviene un ulteriore decreto ministeriale che dice individuate le aree inidonee però non potete fare nessuna moratoria ora noi questo per dire che le moratorie fino ad allora erano possibili e non sono state fatte quindi intervenire oggi è chiaro che va bene perché bisogna comunque intervenire però è tardivo e non risolutivo perché ormai i buoi sono scappati dalle stalle ma io voglio dare un ulteriore dato ai cittadini perché rispetto al 2021 in cui il Movimento 5 Stelle aveva chiesto la moratoria rispetto a questo tema che era stata bocciata sono stati installati soltanto nella provincia di Udine campi fotovoltaici per mille ettari di terreno e per una potenza di 870 megawatt quando l'obiettivo da raggiungere dal piano energetico regionale entro il 2030 è di 1900 megawatt quindi posso dire con assoluta tranquillità che questo obiettivo è per la metà già raggiunto e senza considerare tutte le aree che hanno interessato le altre ex province e tutti gli altri impianti fotovoltaici in corso di valutazione di BERT telegrafico mi dispiace telegrafico però l'argomento è complesso io parlo dal decreto del 2010 non dimentichiamo che nel 2015 chi governava la regione quella volta quando ha fatto il PER poteva ricevere e mettere all'interno di questa i siti inidoni cosa che non è stata fatta 2015 Serracchiani nel 2015 nel 2018 è uscita la RER 2 e il governo doveva recepila non l'hanno recepita nel 2021 esce questa benetta normativa che dava 18 mesi di tempo per non è stato fatto nulla noi nel 2021 noi nel 2021 su sollecitazione abbiamo fatto la legge non va dimenticato che lo stessa opposizione anche l'opposizione se l'altro ministrativo la stessa opposizione aveva fatto una proposta di legge quindi andare sull'altro ministrativo attenzione non è così semplice io vi prometto che vi richiamo promesso faremo uno speciale fotovoltaico scusatemi ma lo so lo so purtroppo mi dispiace veramente tanto scusatemi devo chiudere e abbiate pazienza vi prometto che vi rinvito tutti quanti grazie mille agli ospiti linea alla regia restate con i programmi di Telefriuli torneremo sul tema non temete buonasera buonasera a tutti buonasera un altro shock per quello che non sarai grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti